...nei posti che incontriamo e per chi governa gli stati e che la ricerca del bene comune aiuti a vincere le divisioni e le differenze che ancora esistono fra i popoli. Ascolta Gesù. E chi soffre a causa della fede e che sull'esempio delle primi comunità riesca a amare e perdonare chi non percibita, preghiamo. Ascolta Gesù. Accogli il paradiso che ha concluso oggi la vita di lei. Ricordiamo tutti i nostri parenti e amici e defuti. Ascolta Gesù Signore. Tutto questo padre...